Salve amici e amiche, scusate l'orario, oggi ho fatto tardi perché sto lavorando per la live con Parabellum Mi ha chiesto letteralmente di scrivere un libro, però non diteglielo Allora, nel frattempo ieri avevo raccolto un po' di video da proporvi e sinceramente mi sono imbattuto in fenomeni strani al nostro governo Preparatevi e tenetevi forte Il paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale Il rischio che si corre è duplice e speculare L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione E per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa Impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro Intese come una minaccia Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi? Sì, è così Siamo precipitati nell'epoca delle passioni tristi, signori miei Allora, questo è Giulie, appena insediato, che ha deciso di illuminare il popolo italiano con una supercazzola di quelle clamorose Senza nessuna ironia e senza... non lo so Io vorrei capire se lui ha scritto questo testo e per lui ha senso Soprattutto, fate caso perché poi ci saranno anche altri suoi interventi Secondo me quest'uomo ha la particolare attitudine di riuscire a leggere male anche un testo che ha senso Figuriamoci quando il senso non ce l'ha Cioè riesci a mettere il tono, le vocali, gli accenti nel modo più sbagliato possibile Che ti fa perdere il senso di quello che sta leggendo Quindi figuriamoci se dice amenità Paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia Delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale Il rischio che si corre è duplice e speculare L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione E per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa Impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro Intese come una minaccia Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi? Sì, è proprio così Bellissimo Solidarietà alla famiglia Giulia Mettetevi nei panni dei figli Commento spettacolare Quando non hai studiato nulla E la butti in caciara all'interrogazione E sta geniale 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 le meme che sta generando fra l'altro fra lui E un altro fenomeno Renzi Cioè c'è stato un botta e risposta fra Giulia e Renzi Che penso che sia uno dei momenti più divertenti Che l'Italia abbia mai visto al Parlamento To, beccatevi Beccatevi la risposta di Renzi Cito Di fronte a questo cambiamento di paradigma La quarta rivoluzione epocale della storia Delineante Un'ontologia intonata Apprezzabilissimo questo Alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale Il risultato è duplice Speculare Sono le sue casi di ieri Alla Commissione Io trovo interessante sia La citazione non contenuta qui di Hegel Che quella che io vedo di Luciano Floridi Che ci trovo Sia una citazione che ho visto solo io di Monicelli E di Tognazzi e del Conte Mascetti A proposito della sua strategia culturale Ma le domando Che ci azzecca con Hegel E la rivoluzione permanente dell'infosfera globale Un NCC di Frosinone Alla guida di un'azienda di servizi culturali Spero mi sentiate Prometto da oggi Che farò del mio meglio Per adeguare il mio eloquio Alle capacità cognitive del senatore Renzi Ma dai Non puoi dare dello stupido a Renzi Dai Cioè Arrivi tardi C'è nato 20 anni Ce l'abbiamo Cos'è? Da 15 anni Renzi Dai Non puoi dirgli così Poi sembra Ma non è È laureato È tipo Conosce l'inglese Non è che non conosce l'inglese Renzi Conosce meglio della Meloni Però dai ecco Non gli puoi rispondere così Perché ti ha detto che hai fatto la supercazzola C'ha ragione Renzi Dai Non dirgli così Prometto da oggi Che farò del mio meglio Per adeguare il mio eloquio Alle capacità cognitive del senatore Renzi La Russia se la ride Ne ringraziare gli onorevoli interroganti Vuole aggiungere qualcosa onorevole? Notare le mani Perché tutti quanti hanno notato che gli stanno C'ha la tremarella Giulie Tipo il primo giorno È il primo giorno a scuola E hai sordito con una supercazzola Hai sordito con una supercazzola In un'aula piena di cazzari Voglio aggiungere qualcosa? Lascia ascoltare One eternity later Negli affidamenti diretti Alla chiaroscura gestione dei conti correnti Ereditati dalla precedente amministrazione Che ha da ancora pochissimo tempo Da parte nostra si confie Perché l'ho interrotta prima Da parte nostra si conferma qui Non soltanto la regolarità formale Della procedura di designazione Ma altresì il valore professionale Del dottor Tagliaferri Abbiamo visto Insomma aspettate Che li ho presi tutti Botta e risposta Questa è la sua risposta di Giulie All'accusa di Renzi Di aver fatto supercazzola E di chiedere le spiegazioni Sulla sua azienda privata Dice come mai che un NCC Si ritrova ministro della cultura Funzione agli affidamenti diretti Alla chiaroscura gestione dei conti correnti Ereditati dalla precedente amministrazione Che ha da ancora pochissimo tempo Da parte nostra si conferma Perché l'ho interrotta prima Da parte nostra si conferma qui Non soltanto la regolarità formale Della procedura di designazione Ma altresì il valore professionale Del dottor Tagliaferri Il quale oltre ad aver ricoperto Diversi incarichi Vanta un'indiscussa e duratura Esperienza manageriale Manageriale Potrei continuare 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 Ma finisco Perché non voglio abusare Del vostro tempo Ho l'impressione Ho l'impressione Che la polemica Incentrata su Ales Abbia più la natura Di un noioso Purparlea A questo punto Interessato Piuttosto Che i presupposti Di una sana dialettica Di visione E a chiacchiera Chiacchiera Poi qualcuno la chiama gossip Altri purparlea Peccato che il mio predecessore Gennaro San Giuliano A cui va tutta la mia stima Abbia chiuso Itzart Le dice niente Per evitare che continuasse Lo spreco di fondi pubblici Che causava Altrimenti questa sarebbe stata Una buona piattaforma Da dove trasmettere Un racconto poco avvincente Chiudo E ovvio Senza l'ombra di alcune Arrière pensée Cogliendo l'occasione Per riconfermare La mia stima professionale Nutrita nei confronti Di Antonella Manzione Già capo dei vigili urbani Di Firenze Scelta nel 2015 Alla guida dell'ufficio Affari legislativi Della presidenza del consiglio Dall'attuale interrogante E allora premier Matteo Renzi Che a suo tempo Mi lusingai Mi lusingai Di difendere in pubblico Dall'inaccettabile accusa Di aver trasformato Palazzo Chigi In un comitato D'affari paesano Grazie È davvero odioso Con questo modo di fare Praticamente Cioè Non lo so Un di quei personaggi Che quando parlano seriamente Sono antipatici E poi per tutto il resto del tempo Cerca di prenderti per il culo L'entusiasmo passivo Che rimuone I pericoli Della Ipertecnologia Tecnologica È difficile da leggere Bellissimo Questa meme Cosa pensava Ma comunque La risposta di Renzi Poi è arrivata Aspettate Perché ce l'ho La risposta completa Di Renzi Poi Quando gli ha detto Ecco Ecco Questa è la parte più bella Chiacchiera Poi qualcuno la chiama gossip Altri pur parler E ovvio Senza l'ombra di alcune Arrière pensée È andata così Abbiamo visto tremare Non tanto semplicemente La sua mano Ma la sua voce Al di là delle battute Sulle capacità cognitive Senz'altro limitate Del sottoscritto Ma in grado di far conseguire Al medesimo Una laurea In tempi decenti Cosa che Auguriamo possa accadere Anche a lei Lei non ha risposto Alle domande su Alice A me del gossip Non interessa niente Voi avete messo Uno che non ha Un curriculum adatto Per stare lì Lei Caro ministro Giulie Anziché venire qui E dialogare con noi È venuto a farci La lezioncina Che noi Da uno che dava Del patriota A Vladimir Vladimirovich Pusi Non prendiamo Vi misureremo Sull'attività Dei beni culturali Vi chiediamo La risposta Alle domande Entro una settimana E vi invitiamo A scoprire La gentilezza E l'umiltà Nel posizionarsi Non di fronte All'interrogante Ma di fronte Al Parlamento Della Repubblica Che protempore La ospita come ministro E questo è giusto Renzi Diciamo che Sono sempre stato Un po' Contro di te Nella mia vita Non mi piaceva Il fatto che Sembri un figlio Di Steve Jobs Dichiarandoti Di sinistra Non mi è piaciuto Tanto il tuo approccio Però Come devo dire Qui hai ragione Non si può Dirti il contrario Non penso proprio Soprattutto Se parliamo Di Giulie Che era uno Che faceva i comizi Pro Putin Dai Parliamone Voglio dire Di chi stiamo parlando E uno Dai Non penso proprio Opinione mia Personale Però andiamo avanti Non perdiamo tempo Sono passati dieci minuti Allora Alcuni interventi ieri Di Sikorsky Sono stati interessanti Perché Quando si parla Del cosiddetto Starlink Di Elon Musk Che Secondo alcuni Sta fornendo dati Di intelligenza All'Ucraina O almeno da Una piattaforma Per poter operare Agli ucraini L'accesso a internet Per poter operare In realtà Non è vero Perché Sikorsky Ieri ha ribadito Che tutto L'impianto Satellitare Di costellazione Di satelliti Che stanno operando Per l'Ucraina È stato fornito Dalla Polonia Ok Questa era una cosa Da precisare Andiamo avanti Notiziona del giorno Prove che è arrivata ieri Kadrov Ha fatto una conferenza Davanti ai suoi Che diciamo Sappiamo chi è Kadrov È uno Leader ceceno Che si Come devo dire Che è in una lotta Di famiglie All'interno Del caucaso Settentrionale Se non sbaglio E ieri Ha letteralmente Dichiarato Una guerra A due senatori Russi E un oligarca Ha appena annunciato Ieri ai suoi A tutti i suoi Generali Familiari Perché questi sono tutti Imparentati E non pensate È un clan Una sorta di tribù Appena dichiarato La guerra Sanguinosa Ha usato parole così Guerra di sangue A due senatori Russi E un oligarca Quindi È una notizia interessante Come devo dire C'è chi C'è chi Se l'è goduta Come devo dire Vediamo cosa succederà In questo momento Chissà 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 Ora Passiamo Ecco Per restare Per tornare sul tema Di politici italiani Faccio un salto indietro Ieri mi hanno spiazzato Le parole di Calenda Voglio dire Che a quanto pare Sta rivedendo Le sue posizioni In Ucraina Putin ha fatto Molti morti civili Ma sono sempre morti Di Colpi Che sono andati Da una parte Diciamo Dove non dove Andranno Ha mai fatto bombardamento Di Dresda Capito Capito Cosa ha appena detto Calenda Cioè Secondo Calenda I danni Che Putin E il suo esercito Ha fatto In Ucraina Che tipo È una mezzaluna Di distruzione Che si vede Dallo spazio Che si estende Tipo per 1200 km Quelli Quelli sono danni collaterali Cioè anzi Neanche danni collaterali Sono errori Delle armi Evidentemente Sentiamo le sue parole Ma sono sempre morti Di colpi Che sono andati Da una parte Diciamo Dove non dovevano andare Colpi che sono andati Da una parte Dove non dovevano andare Quindi ecco Questa è una nuova definizione Definizione Di danni collaterali No Perché per danni collaterali Si intende Un'altra cosa Un danno collaterale È quando Tipo Un Un terrorista Di Hamas Si scherma Dietro Mette un deposito Il suo bunker Sotto Una famiglia No Ordinaria Quando Per esempio La distruzione Di un bunker Di questo I detriti Dell'esplosione Il raggio Dell'esplosione Coinvolge Edifici Circostanti Quindi Quello È un danno Collaterale Ma Nel momento in cui Putin lancia Dei misti da crociera Contro Ospedali Infrastrutture Civili Le Le centrali elettriche I supermarket E ho parlato solo Di misti da crociera A meno che I misti da crociera Di Putin Non fanno Diciamo Cilecca In modo sistematico E colpiscono Accidentalmente Gli edifici civili Non si può Dire Che Calenda Stia dicendo qualcosa Che abbia senso Se poi consideriamo L'artiglieria Che va su coordinate Quindi Quando I russi Colpiscono le città Le colpiscono Ad aria Quindi Non si può dire Che quei colpi Fossero diretti Da qualche altra parte E poi C'è da considerare Questo Voglio dire È storia È documentata C'è Laia Che sta indagando Su questo Ci sono Le stragi Dei civili In due anni e mezzo Suonati Di guerra Compiuti E operati Dall'esercito russo Che non è che Stavano lì col fucile E si sono sbagliati Per far fuori Dei civili Non penso proprio Poi ci sono I filmati Che arrivano su X Da parte russa Cioè Non stiamo parlando Di propaganda occidentale Noi possiamo vedere Oggi I filmati Dei russi Quando prendono Di mira In modo sistematico I cittadini Ucraini Gli lanciano I droni Le bombe Dei droni Addosso Si vedono Le scene Ci sono le testimonianze Ci sono i filmati C'è la documentazione Quindi Caro Calenda Per favore Non dire Amenità Perché questo È vergognoso Quello che è appena detto Cioè È un po' come giustificare Quasi tre anni Di crimini Di guerra Compiuti in maniera Sistematica Da parte della Russia E dovresti Vergognarti Di quello che è appena detto E forse Non so Forse stai cercando Di accaparrarti i voti Ma Quel gruzzoletto Che cerchi di mettere Da parte In termini di voti E Sono gli spicci Sono le briciole Di chi può votare In Italia Perché La stragrande maggioranza Del popolo italiano Ha ancora un po' di buonsenso Per non seguire Queste cazzate Scolpi Che sono andati Da una parte Diciamo Dove non E il suo interlocutore Non è che dice Stai dicendo Una fesseria Ovviamente Non comment Non comment Andiamo avanti Per quanto riguarda I progressi russi Fra poco vi aggiorno Ma ci sono stati Nel senso Ci sono state Piccole conquiste Del territorio Ma Appunto Come vi accennavo L'altro giorno Questo è un soldato russo Che sventola Una bandiera E festeggia Sopra Un edificio Smembrato A Vuledar Ok Benissimo Stanno festeggiando La conquista Di un villaggio Che aveva Una popolazione Di 14.000 persone E ci hanno messo 30 mesi Per conquistarlo E hanno perso Qualcosa come Non si sa Quante Forse tre volte tanto Quattro volte tanto In termini di uomini Per conquistarlo Andiamo avanti Un altro video Interessante Di una signora Che vive Nella regione Del Kursk Sentiamo cosa dice Mio marito è con me A 70 anni E' stato preso E' portato a Sumi Due volte Per fargli Operazioni chirurgiche Per chi non sa Dove si trova Sumi Ve lo mostro Noi stiamo parlando Noi stiamo parlando Di una signora Del marito di questa signora Che è stato preso Da qui Non so dove Dalla regione Del Kursk Aspettate Qui si vede meglio E' stato preso E' stato preso Qui Dalla regione Di Kursk E' portato a Sumi Ce l'hanno portato In Ucraina Per potergli fare Le operazioni Chirurgiche Ok Assistenza sanitaria Sentiamo che dice Due volte Non c'è Non c'è nessuno Che ci ha aiutato In questo momento Ha detto Io Avevo chiesto Prendetevelo Portatevelo via Per l'amor di Dio E invece il medico Ucraino L'ha preso L'ha portato lì E me l'ha riportato A casa La mia gratitudine E' alle stelle Dice la signora I soldati ci portano Il cibo E ci danno l'acqua Grazie mille Ci curano Aveva chiesto aiuto E gli è stato dato Aveva detto Portatevi via Mio marito E lo hanno fatto L'hanno preso Lo hanno curato E glielo hanno riportato Dice che una signora È venuta a filmare Dalla propaganda russa Ha filmato le loro espressioni E nient'altro Dice che hanno la cacca nel cervello Vabbè Questa insomma è una testimonianza Tra le tante Un'altra Che devo documentare Oggi Terrificante Questa giornalista Ucraina Vittoria Vittoria È una lada È una lada È una lada La niva Tipo le macchinette russe Quelle stupide È stata un po' Acchittata Per una sorta di difesa Antidrone La fanno correre Sono tipo in sei Dentro quella macchina Corre nel campo Corre nel campo A un certo punto diventa Una palla di fuoco E muoiono tutti Allora Invece da questa immagine È un po' Questo a sinistra Che vedete In blu Col cappellino È il governatore Di Zabal Zabalcal Dalla regione di Osipov Mi sembra un po' Una canzone Popov Dove sta Da qui Tipo una regione Sperduta A nord Verso la Finlandia Ok È un filmato Disgustoso Però stanno facendo Un'intervista E il governatore Che cosa fa? No Non si fa Dai Non si fa Non si fa Maledetti russi Ok Andiamo avanti Allora Per quanto riguarda Le ultime news Dal fronte Non ci sono Novità particolari Salvo Un ulteriore sfondamento Da parte russo Nella regione di Kursk Come vedete C'è stato un cambio Ecco Vedete C'è stato un cambio E il fronte russo Si è spostato Più all'interno Fino alla zona contesa Adesso Di Novo Ialonka Qui Stanno combattendo Qui In questo momento Quindi Da ieri a oggi Scusate Dall'altro ieri a ieri C'è stato Questo piccolo Cambiamento Quindi bisogna vedere Come si evolverà La situazione Se le forze ucraine Resteranno intrappolate O meno Bisogna vedere Come si svilupperà Anche l'azione Qui Al momento Qui Viene segnalata La presenza Del 56 Aero Assault Regimento Sono paracadutisti Non ci sono altre Novità Se non Nella regione Di Foychask Dove c'è stato Un piccolo progresso Da parte Ucraina Che hanno liberato Questa porzione Territorio Risulta Almeno Contesa Riporto Ecco La mappa Di Mayakosk Ci mostra La presenza Delle forze russe Dirette Verso Novoianovka In quest'area Dove si segnalano Anche combattimenti E numerosi Mezzi distrutti Russi L'intervento Delle forze ucraine Con i soliti droni Quindi al momento L'avanzata russa Sta coprendo Questa Quest'area Andiamo a vedere Quindi torniamo Nell'area Di Voichask Dove segnalava Appunto La liberazione O almeno L'avanzata ucraina In questo villaggio Come si vede Ci sono ancora Report Su Voichask Nonostante sia Una terra Desolata Ormai Solo ruderi E macerie Avevo segnalato Fra l'altro L'azione Imponente Di avanzata Russa In quest'area Ancora devo vedere I report Però Attualmente Vediamo che È supportata Dalle bombe Fab Giorni del 9 L'8 L'10 Tutti Il 10 Truppe In contatto Qui Vediamo se posso aprire Il video Ve lo mostro Sì Queste sono tutte Geolocalizzazioni Di trupp Trupps in contact Come potete vedere Chiudo Per non Demonetizzare Allora Altri progressi Non ce ne sono Se non ancora Intensi combattimenti Nella zona Di Toresk Come vedete La proiezione Russa Si sta estendendo In questo momento Verso sud ovest Così Se lo faccio in rosso Che è meglio Hanno preso Alcuni quartieri E sono diretti Verso sud ovest Stessa cosa Nell'area Di New York Dove Non ci sono Grossi cambiamenti Vediamo però Che le truppe ucraine Sono state respinte Nella loro avanzata Che fino a Almeno una quindicina Di giorni fa E erano riusciti A ottenere Quest'area Quindi L'azione Di avanzata russa Continua Facendo piccoli Piccoli progressi Ma Continui Questa è la nuova Zona occupata In direzione Di Pokrovsk Anche qui Si segnalano Diverse Attività Guardate Quante azioni Russe Questi sono Tutti mezzi Russi Distrutti Nella loro avanzata Verso Kurakove Il 7 Vedete Il 7 Tutti questi mezzi Il 7 L'8 L'8 Questi attacchi Con droni Nelle retrovie Proprio sulla strada Vedete c'è Questo basso piano Questo fosso Ecco Che costeggia Il filare di alberi Fra l'altro Ho visto Questi video E mostrano Esattamente Quando vedete Questa icona C'è un mezzo Con una fiammella Sopra E' proprio quello Che descrive C'è un mezzo Che viene colpito In pieno Da un drone Ed esplode L'altro Credo Che qui Deba esserci Anche il filmato Dell'automobilina Che Che vi ho mostrato Poco fa Come vedete Poi i russi Stanno facendo Attacchi Con droni FPV Ricognizioni Si stanno già Spingendo Almeno Nella loro Intenzione Quella di raggiungere Kurakove E chiudere Così Il settore Questo piccolo Settore qui Hanno ottenuto Dopo 40 mesi Hanno ottenuto Vule Dar Anche se non Serviva a niente Però attualmente So C'è almeno Quello che si può Dedurre E che vogliono Chiudere Questo settore E questo è Ci sono stati Poi Ah questo è L'attacco Ucraino Di ieri Di cui avevo parlato Nella Nella zona Dovrebbe essere L'edificio Colpito Da un missile Ucraino Il deposito Di carburante La raffineria A Come si chiama Perché Maiakosk Usa la mappa In russo Devo ancora Scoprirlo Seppure è un italiano Lui è un italiano Perché a Fedosia Esatto Volevo dire Fedosia Continua a bruciare Tipo il quarto giorno Consecutivo Che continua a bruciare Siamo in attesa Siamo in attesa Poi dei report Migliori Di danni Alla pista Di Makeup Di cui vi ho parlato Ieri E questo È quanto Ecco Poi riportato L'attacco Missilistico A ESC Di cui vi parlavo Ieri Eccolo Questo Questa è l'area Del deposito Munizioni Non so se è precisa La localizzazione Del Liconcina Questo è da vedere Quindi Questa è la situazione Concludo Con Zelensky Che in questi giorni Sta visitando L'Europa Ieri Oggi È stato Fino oggi È stato in Italia Ha incontrato Il Papa Onestamente È Detto così Fuori dalle righe Perdonate La mia esternazione Perché Sinceramente Lo dico Sono una persona Estremamente Laica Che non Tollera Molto Le ingerenze Della chiesa Nelle questioni Di politica E vita pubblica Cioè Finché si parla Della sfera privata Della sfera religiosa Privata Va tutto bene Però O sei un uomo Di chiesa Coraggioso Che dice Le cose come stanno Oppure Lascia stare Secondo il mio Punto di vista Quindi Secondo me L'incontro di Zelensky Con Papa Francesco È stato Abbastanza Me Ecco Per dirla Alla pugliese Secondo me Diciamo Papa Francesco Dovrebbe Tipo Strapparsi I capelli Che non ha Fare qualcosa Di eclatante Per denunciare La situazione Non che Ti metti In mezzo E vuoi fare A tutti Buon viso E cattivo gioco Non sei un politico Da una parte C'è una nazione Che si sta difendendo Con le unghie E con i denti E dall'altra C'è una nazione Che commette Crimini di guerra Un giorno sì E l'altro pure Quindi c'è poco Da essere Tolleranti E diplomatici In questi giorni O fai O fai Uno Però voglio dire Scusate Lo sfogo Niente Se vai a vedere Indietro quella storia La storia italiana I papi Anche quando in Italia C'erano i dittatori Non è che facessero Chissà che Voglio dire Però questo È uno sfogo Perdonatemi Tra l'altro Ieri Parlando con Macron Zelensky Ha ribadito Che non c'è Nessuna intenzione Di Proporre Pace Pace Che Comporti la resa Dell'Ucraina Cioè Non è venuto in Europa Per parlare di una pace In questi termini È chiaro che Ha detto È chiaro che Vorrebbe Che la guerra Finisse subito Ma ottimisticamente Ha parlato Del 2025 Quindi Vedremo Questa è la situazione Dice In questa breve intervista Con Macron Dice Ho visto In media Parlare di qualcosa Che Oggi Sono venuto Con discorsi Di pace Di voler Il cessato Il fuoco No Non voglio Il cessato Il fuoco Non è giusto Non è vero Che voglio Il cessato Il fuoco Voglio dire Lo sapete La Russia Cerca di corrompere In tutti i modi I media Si infiltra Dappertutto Con la disinformazione E per concludere Vi lascio Con le super Cazzole Del mulino bianco Sponsorizzate Dal nuovo Giulie Ministro Per la cultura Quindi signori miei Con questo Vi abbraccio Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Alla prossima